ciao a tutti grazie sotto ancora non sono il like almeno leggo qualcosa allora starete tutte in giro però la vedete dopo a chi interessa ciao ragazzi c'è qualcuno perché io vedo tre occhietti 4 like eccola qui maria ciao buona domenica anche a te fiorenza maria due marie michela anna manu ma siete le mie amichette si ci siete tutte grazie alla 44 ciao manu 77 ciao un bacio a noemi francesca allora vediamo intanto qua se lasciate io sotto non la leggo e com'è sta storia qua a riuscire rientravo umaro vediamo un po vediamo un po se adesso me la va eccola ecco qua allora assunta ciao tesoro anna masdea ciao michela anna maria rosa ciao maria ferrante sonia alessio ciao maria currarini lorenzo insomma ci siede siamo già in tante sto smonta tutto c'ho tutti i fili sto in condizioni pietose allora ciao francesca tiziana ciao barone ciao ho fatto una sorpresa oggi pomeriggio ma una notizia forse che non mi farà piacere allora ascoltatemi un attimino io questa sera e domani sera non posso stare in diretta allora la diretta serale la facciamo martedì quindi martedì alle 9 dopo vedrete modificata l'orario e il giorno del promemoria però ho detto magari pensano a qualcosa di chissà che è successo non è successo assolutamente nulla uno sto facendo un tutorial per voi che lo trovo strepitoso è un qualcosa che potete utilizzare per i mercatini ma soprattutto anche per la casa quindi è eccezionale questo è un lavoro che io faccio io vendo io però ho deciso di condividerlo con tutte voi vi caricherò l'ho già preparato il cartamodello quindi voglio finire intanto di girare questo tutorial perché non lo posso fare in avete visto le le nappite francesca sono molto molto carine no ce la portate di la per la foto si la lasciate di la ragazze voglio finire di fare questo tutorial e perché non lo posso fare in diretta perché sennò non si vedono bene le immagini quindi ho deciso di girare il tutorial ok quindi stasera cerco di finirlo e montarlo in modo tale che domani mattina o al massimo domani pomeriggio esce ok poi nello stesso tempo vediamo se riesco a fare anche delle riprese siccome le devo consegnare domani sera delle presine simil tune con un ricamo con la v3 vediamo se riesco a fare un piccolo tutorial anche sulle presine va bene allora intanto ditemi un po che mi raccontate e no non ve lo voglio di lo dovete vedere allora intanto non c'entrano niente le nappine le nappine è un tutorial io sto facendo le bomboniere ringraziando dio tutti i santi sono finite ho fatto delle bomboniere per un venticinquesimo anno di matrimonio e e quindi ma avevano che c'è come decorazione c'era anche la mappina e ho detto lo voglio far vedere sia la bomboniera sia come fare la mappina per non fare un tutorial lungo otto giorni no vabbè però ho detto è meglio che divido così chi vuole andare a metterci la mappina c'è il tutorial chi ci vuole appiccicare un'altra cosa ci appiccica quello che gli pare allora fatemi un po vede se ci stanno domande dillo anche a noi come fare cosa sono ritornata dalla casa al mare mo mi organizzo a cucire ti seguo comunque anna maria biasco ciao tesoro un bacio brava ai sulle presine anche bavaglini sì sì facciamo facciamo tutto allora ciao sono l'iscia sono nuova e mi piacciono tanto i tuoi tutorial l'iscia benvenuta nel canale allora camelia a le bomboniere certo vi faccio vedere le bomboniere come no io sto continuando a fare il corredino carmela bisanzio tesoro mio vediamo se domani riesco a chiamate allora antonietta ciao tesoro ciao allora loredana tarricone buon pomeriggio ciao loredana era un po che non mi capitava di leggerti scusa se magari sa però avete allora qualche fatina per natale stoffa con dei vestitini e merletti e la possiamo fare io sono in montagna mi do da fare certo pensi di applicare le una fine agli astucci allora sì le applicheremo anche agli astucci io ci sono sempre ma non mi saluti mai stefania desideri eccolo qui anche un bacio ti do allora sono arrivata adesso manuela ciao luciana sordoni più non so che era vieni a casa magari magari annapecci ciao finalmente posso seguirti dopo un'assenza interminabile annita ciao ben ritrovata allora pure io voglio il tuo bacetto maria carluccio eccolo qua allora luciana grazie tesoro un bacio anche a te allora io sono un'ultima entrata ciao daniela busillo ciao benvenuta allora maria rosa avete visto con questa diretta al volo sto conoscendo tante nuove mi fa molto molto piacere allora lei l'angelo che hai fatto è strepitoso lo hanno l'ho fatto subito ma ti volevo chiedere se c'è la versione maschile allora come avete visto il allora questo è l'angioletto che abbiamo abbiamo fatto no adesso mi è arrivata anche la soffina celeste perché questi io li regalerò a natale già ve l'avevo detto stanno ho deciso di fare così nei miei pacchetti ci sarà un angelo ad ogni pacco e io anche i nipotini perché poi attaccano gli al albero però lo voglio fare ci scriverò anche il nome e quindi farò anche la versione maschile vi metto stengate il tutorial volo tanto a chi chi lo vuole vedere lo vede che non gli interessa sorvoliamo però ve lo voglio far vedere perché il maschietto mi sono inventata una cosetta un po per farlo diverso quindi ve lo voglio far vedere sicuramente guardate un po che ho trovato ragazzi ho aperto una scatola queste mannaggia non si vedono sono le mie ciabattine quando ero piccola sono dei gattini l'elastico è meglio che non ve lo dico che condizioni è in una scatola l'ho trovato mannaggia mamma mia mamma se si metteva da parte queste cose ma so super super carine c'avevo pure aspettate che perché me le volevo eccola l'altra guardate che che fashion che ero anche da bambina allora sotto sono super consumate e sono l'infradito allora il numero è il 25 ma non so 25 a che età corrisponde ma ci hanno proprio il tacchetto consumato e mamma qui mi aveva tagliato il laccetto perché evidentemente mi dava fastidio ma che ben ricordi e la trovate dentro questa scatola perché io m'ero portata qui qui a giove dei ricordi a 34 anni ok grazie ma aveva 18 mesi o 33 e non lo so se ero un piedo se ero una piedona oppure no comunque mi fanno tenerezza a pensare che già c'erano ste cose tanti anni fa ma le ciabattine le ciabattine 20 21 però 20 21 ma sono quasi uguale ci manca cioè questo 25 ci manca come differenza un dito tre anni ma non me le ricordavo proprio no so troppo carine le volevo sistema poi ho detto no pure che sono rovinate le voglio tenere proprio così non le voglio aggiustare per niente per niente solo che mo le metterò in una in un in un cielo fa perché non le voglio rovinare più di quanto già non sono rovinate perché penso che l'ho usate tantissimo vabbè mi sono persa un attimo perché l'ho visto mentre l'ho viste dietro e allora ve le volevo fa fa vedere ecco niente scusate di questa ecco serena allora ragazze siamo in ritardo ma ieri serena ha fatto l'anniversario quindi serena ti rifaccio gli auguri anche in pubblico eh sì infatti è un'emozione quando so quelle piccole cose che magari in una giornata storta ti riempiono il cuore io mo me le schiaffo qui però le voglio mettere in una bustina forse se trovo anche una scatola trasparente le metterò nella scatola trasparente allora sì facciamo gli auguri a serena tanti auguri serena tesoro allora 28 anni di vita con toni e so tanti e 28 è anche io 45 di matrimonio giuseppina lo sei allora tanti auguri pura giuseppina un bacio giuseppina allora serena e giuseppina lo stesso giorno pensate io il 15 di dicembre dieci anni siamo ancora pischelletti allora buon anniversario rosanna ciao annita carlino luciana sono 50 anni fatto il 20 tantissimi auguri luciana aspettate che c'ho la macchina da cucina accesa il ferro acceso c'ho tutto acceso io perché stavo cucendo però non mi pare il caso io come soccorta io 34 lotto ottobre io ne ho fatti 40 insomma ho la più pischelletta so io dieci anni soli di sopportazione quindi allora chiara il 4 dicembre 39 il 9 gennaio 40 anni ma donna a regà qui c'è da davven premio no bella tutte anna pecci 39 40 30 39 tanti vedo è rosia lois no lei fa gli auguri allora ragazzi insomma domani 35 a giugno scorso annarietta carlino carlino carmela roma ciao il 22 dicembre 43 anzi anche l'oretta l'oretta di dicembre aspetta eli il bello devo ancora venire allora tu sei ancora una sposina sì del primo pelo sono la sposina del primo pelo se dice a roma elisa 29 gli ho fatti il 9 auguri teresa vabbè settimana abbiamo superato ma vediamo un po come andiamo 20 anni di matrimonio ma io ne ho 44 michela ma e beh sì perché prima uno si sposava presto è vero 30 il 28 settembre romi no robbie 36 o tutte tanto è elisa ci sono anch'io teresa cicchinelli un bacio parliamo un po di età elisa ho figli della tua età ah 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 Li più passa il tempo e più ci si vuole bene Ma è vero però Perché uno si conosce di più Si lascia andare Tanti difetti Uno li lascia andare Sia da una parte che dall'altra Io luglio 55 Io 7 Ah Rosy Alois 7 Noi siamo in un'altra era Ma questa sera ci sei No Monica fa il tracco Questa diretta era Proprio per annunciarvi che stasera Domani sera ho proprio un impegno Vado a cena fuori Mi sto da un po' troppa gioia Domani sera siamo invitati E quindi domani sera non ci sono Ma stasera siccome Ho fatto questo tutorial E ci tengo a farlo E ci tengo a pubblicarlo domani Perché Sto un po' impicciata con i tutorial Perché ce n'ho talmente tanti in testa E talmente tanti da Già registrati Da sviluppare Da fare Però questo lo voglio pubblicare subito Perché non mi leggi Anna Maria Valente Ciao tesoro Perché non mi c'è caduto l'occhio Allora Fai bene Siamo state chiuse per due anni Chiara Eh sì C'ho questi nipoti Che di solito vengono loro Devo essere sincera Domani sera ci hanno invitato Quindi Andiamo Io e Massimo Andiamo Molto molto volentieri E niente Almeno Domani faccio proprio la signora Hola mi amor Giuseppe Luciano Calvese Ti chiedo mucio Io Non so Se la moglie di qualcuno Giuseppe Sicuramente sarà Giuseppe La moglie che scrive Comunque benvenuta Pure 39 anni Sono tanti Lisa Dico che ne ho 77 Il primo novembre Ecco perché Dico che i figli hanno la tua Ah Teresa Ho capito Vanessa Ciao Lina P Riposo fa bene No ma fa bene Proprio passare una serata diversa Insomma ragazzi Io poi sono stata proprio chiusa Ma proprio chiusa Chiusa E ancora Non vado tanto in giro Perché come vi ho detto Già sbariate volte Non ho fatto ancora i vaccini Sì Anto Di toro Sì Siamo in diretta Io a giugno 46 Siamo tutte giovani ragazze Certo Ma io dico proprio Ragazze Perché Noi siamo Un gruppo di ragazze Non conta ragazze L'età Conta uno Quello che si sente Io per esempio Mi sento una nuova antenne Devo essere sincera Tutti attacchi A mattina Sembra un pratico Allora Mi fa male la cervicale Mi fa male il braccio La schiena Il piede E il ginocchio E il ginocchio A mattina sempre Il dottor Cibò Vuoi ricordate? Anna Noce Come non te saluto Ciao tesoro Cinzia Martioli Allora Teresa Elisa mi fai tanta compagnia Anche perché Vivo sola Teresa Cicchinelli Eh ma passa Io faccio le dirette Perché So che vi fa piacere Una grande carezza Gil Gil sta fuori Con Massimo Che Massimo Sta sistemando Gli olivi Stanno Ringraziando Dio Ci faremo L'olio Quello Delle fasce Ma no Sei giovane Pimpante Pimpante E' vero Nel senso Di umore No Nel senso Che voglio Fare un sacco Di cose Ma la ciacchi Ce l'ho Di una persona Novantenne Ah è vero Lina Le novantenne Non ci hanno La ciacchi Che abbiamo noi E' vero Allora Cambio Prendo l'iPad Ok Siamo tutte ricche Con questi dollari Che dollari? Oddio Che so Sti dollari Siamo in tante A vivere Da sole Rosaria Di Liberto Un bacio Non t'avevo Salutato Perché ancora Non mi c'era caduto L'occhio Ecco I dollari Sono i dollari Ah Tiziano Angelini Ok Eri Quando ci fai Il gattino Del fiocco Luna Monica Era proprio Quello Che dicevo Perché oggi Ho fatto un po' Di riprese Ma adesso Li devo assolutamente Montare Perché se no Rimango indietro Ehm Ci sono Diciamo che Questo che Sto girando adesso E' un lavoro Che devo consegnare Però Ehm Non lo posso Fare pubblico Perché Ehm Chi deve ricevere Ehm Poi Riconosce il tessuto E siccome Mi ha detto Fai tu Ehm Però Non sa Che tessuti Ho scelto Allora L'ho Rifatto E me lo Cucco io E quindi Ehm Niente Ho detto Lo voglio fare Alle amiche E ho girato Un altro Tutorial Ecco Dollari O dolori A sto punto Sarebbero meglio Averci un sacco De dollari Però A noi Ci rimangono I dolori Antonella Di toro Ciao Mi piace Un tutorial Pannello Con gatto Quando puoi Grazie Mi piacerebbe Un tutorial Pannello Con gatto Pannello Con gatto Allora Grazie Teresa Carinini Ragazzi Oggi Il mio Compleanno 53 Silvia Marrucci Un bacio E tantissimi Tantissimi Auguri Da Da quando Ti ho scoperto Non ti molla Più Troppo Piacevole Stare In tua Compagnia Grazie Come ti chiami Ciao Viola Teresa Ho postato Le scarpe Della Gnoma In piedi Quando le Vedrai Timmi Brava Ok Anche Sono sola Da dieci anni Giovanna Un abbraccio Allora Auguri Allora Vi ricordo Lo ripeto Per le ultime Che sono Arrivate ora Che questa sera La diretta Non c'è Infatti Sposterò La data Torniamo In diretta Martedì Alle nove Però Domani E martedì Mattina Usciranno I tutorial Quindi Controllate Sempre il canale Tanto Se avete Attivato La campanellina Vi avvisa Quindi Ci sarà Un tutorial Sia domani Che martedì Poi Martedì Sera Facciamo La diretta E cuciamo Insieme Ci divertiamo Cianciamo Eccetera Eccetera Va bene Sto girando Più tutorial Perché Vedete meglio Allora Aspettate Che vedo Che c'è Ieri È nata La mia nipotina Di nome Viola Luci Coltrano Tantissimi Tantissimi Auguri Che le nascite So La benedizione Di Dio Sei sempre attiva Purtroppo Non riesco A starti dietro Paola Pacini Non mi dovete Stare dietro Io Faccio Perché Uno È mio lavoro Due C'ho pure Il canale Voi dovete Fare le cose Che vi Piacciano Vi interessano E vi servono Allora Lussi Giulia Grimaldi Grazie 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 Aspettate Un po' Che Se Volevo Vedere Ecco qua Ci piacciono Tutti Buona domenica Anche a te Titti Ambra Ciao Come si fa a scegliere È tutto bene Ma infatti Mano a mano Che vedete qualcosa Che vi piace Voi Stangate Lo fate Allora Antonella Di Toro Non hai sentito Stasera Non ci sono Ho aperto Questa diretta Proprio Per avvisarvi Perché magari Pensavate Chissà Che era successo Nulla Stasera Devo finire Di montare Il tutorial Finire Di fare Un progetto Perché Lo devo girare Per oggi E per martedì Elisa Ci fa un banner Nuovo Per Natale Certo È già in Progetto No Intendevo Adesso No Adesso No Ragazzi Adesso Ci Ci stiamo Facendo un attimo Compagnia Perché volevo Fare Veramente Una cosetta Stretta Salutarvi Ma già Sono 25 minuti Che stiamo a chiacchierare No Antonella Di Toro No Stiamo Cianciando Allora Anche perché Ho tagliato Un sacco Di cose Da Da cucire Quindi Non ho avuto Neanche il tempo Poi Di poter fare Una cosa Al volo Ma poi A me Le cose Al volo Non è che Mi piacciono Tanto Io ora Ti ho Vista Ciao Ditti Tesoro Allora Vediamo Un po' Ah Ho Ho visto Che Che Avevo Detto Che vi Facevo Vedere Dei Lavori Dei Lavori Ok Era un'amica Di cuscito Pronto Ma sto in diretta Sì Sì sto facendo la diretta Già Aspetta Aspetta Allora Tina Pacillo Vi saluta Tutte Ma non sapeva Della diretta Hai azionato La campanellina Che ne So Allora Dai Ci sentiamo Appena finisco La diretta Deghiamo Ok Ciao Ciao Vi saluto A tutti Ciao Ciao Aspettate Che tolgo La suoneria Se no qua Ecco qua Ma per caso Comunque Perché mi sa Che già Era abbassata Allora Siamo Un mondo di apette Strepitose E' vero E' vero Allora Giuseppina Questa blusa L'hai cucita tu Bella Bei colori Ti stanno bene Grazie Questo è il modello Del matrimonio Più o meno Un po' modificato Perché l'ho fatto Diverso Non ho messo L'elastico Perché è scomodo Ho messo il bordino Ho fatto delle modifiche Alle maniche Riuscite a vedere La mia email Monica Ancora no Ancora no Perché C'è stato Il boom Come al solito Come dico Scrivete Scrivono tutti E poi alla fine Mi trovo 3-400 E-mail Per borsa Te devo andare A cercare Monica Elisa Stavi dicendo Che volevo Far vedere Degli oggetti Volevo Stavi dicendo Che volevo Far vedere Degli oggetti Oddio Non mi ricordo più Sì Monica Io cercherò Mi riscrivo Il nome Le fette Ecco Non mi sono ricordata Allora Ho letto Sul commento Su un commento O le metto Sull'immagine Del profilo Qui su youtube Quindi quando vedete L'immagine del profilo Col cerchietto rosso Vuol dire che ho caricato Delle foto Andate a curiosare Perché vi metterò Le foto Che mano a mano Di alcuni lavori Non è che li posso Mettere tutti Tutti però Di qualche Di qualche Lavoro Ve lo voglio Proprio mettere Va bene Quindi Andate Sicuramente Più sulla community Che sull'immagine Perché l'immagine Dura due tre giorni Sette giorni Non mi ricordo Magari Chi non Non si è collegato Per sette giorni Non le vede Quindi sicuramente Le metterò Nella community Devo andare via Ciao Serena Anzi Grazie Che sei Che sei Ti sei fermata Un attimo Che so Che sei impegnata Ciao tesoro Certo Antonella È uno spunto Per voi Infatti Le presine Che vi voglio Far vedere Quelle con la Thun Che potete Sostituire A questa Chi l'ha vista Questa qui Adesso io Preparo Dei pannelletti E vi faccio Vedere i pannelletti Che potete mettere Ricamati Con la ricamatrice Ok Quindi Per darvi Delle idee Poi vi farò Anche Dei tutorial Proprio Dei pannelletti Fatti Con la macchina Da cucire Normale Quindi andremo A fare Delle applicazioni Con il free motion Chi ancora Non si è imparato A fare il free motion Qui sul canale Nella playlist Trovate free motion E ci stanno I primi passi Come utilizzare La carta termoadesiva Eccetera Eccetera Quindi andate Andate a controllare La playlist Chi vuole Per esempio Un'idea Per Natale C'è scritto Natale Elicrea C'è una playlist Di tutte le cose Che abbiamo fatto A Natale L'altro anno Anzi Se vedete Qualche lavoro Perché adesso Non me li ricordo Che si vede male E volete Vederlo Magari Con un tutorial Sotto A questa Diretta Qui Scrivetemelo Che io Giro il tutorial Quindi Se andate Sulla playlist Natale Elicrea Mi sembra Che l'ho intitolata Natale Elicrea Sì Andate a vedere Tutti i progetti Se c'è Qualche progetto Che vi piace Però non si vedono Bene i passaggi Io lo rifaccio Tranquilla Tranquilla Allora Ciao a tutte le apette Antonella Franco Ciao Non so se Ti avevo salutato Hai visto i sacchettini Che ho fatto Giussi Raitano Oddio Quali erano Non lo so Perché In molti giorni Che sapete Che il sabato E la domenica Mi dedico un po' A voi Mi sono arrivati Una marea di foto Ma non me lo ricordo Giussi Non me lo ricordo Andrò a vedere Dove me l'hai mandato Giussi Perché se l'hai mandato Sul gruppo Devo ancora andare Ellie stasera Non fai la diretta Fabrizia No Stasera no La passiamo A martedì sera Chi non ha la ricamatrice Cosa mette Giuseppina L'ho detto Allora Potete mettere Intanto Un altro pannello Di un altro colore Per esempio Fate il bordo A fantasia Righetta Tinta unita Dentro Mettete un quadrettino Oppure viceversa Fuori quadrettino Bordino Tinta unita Dentro Fantasia Oppure Come vi ho detto Vi farò vedere Intanto con la ricamatrice Un centro Un centrale Con Un ricamo In applique Similtune Se no Potete fare Poi Un disegno In Free motion Quindi Tutte lo potete fare Perché Il free motion Può essere fatto Sia con la macchina Normale Quindi meccanica Sia con una macchina Elettronica Semplice Ci sono i tutorial Andate a vedere Allora Elisa Ti seguo sempre Grazie Fabrizia Grazie Alberta Lavazza Grazie Eli Sul gruppo Ancora Non Sì perché Non ci Sì Ok Allora andrò a vedere Il gruppo Ecco Ho messo Perché se no Te vado a cercare Nelle mail Non ti trovo Allora Lena Genne Si può mettere Anche un pezzo Di tela Ida Bravissima Bravissima Lena Potete anche A chi gli piace Fare Il punto Croce Può mettere Anche Una bella Mattonella Ricamata Con il Punto Croce Bravissima Michela Sì anche Ricamata A mano Sebastiana Ciao Benvenuta Quindi ragazze C'è di tutto E di più Di tutto E di più Potete fare Nanda Ciao Nenzi Mi spiace Sono arrivata Tardi Uffi Nenzi Stanno a chiacchierare Niente De che Magari Avemo detto Qualcosa Interessante Prima Ma Che ne so Niente De Particolare Comunque Ci siamo Allora Pannelli Natalizi Li ha proposti Anche Valentina No Ah no Quelli di Valentina Che io Li ho Ordinati Sono grandi Io parlavo Di pannelletti Piccoli Da mettere Nella presina Comunque Quelli di Valentina Sono fantastici Io ne ho Ordinati Due Vediamo Adesso Quando Arrivano Sto facendo Dei bavetti Per bambina Che nascerà Domani Oh Vuoi ricamare Il nome Mi sono Procurati Gli attrezzi I piedini Eccetera Brava Titti Ah ma Dopo Ti riguardo Ok Nenzi Anche Le applicazioni Sì sì Le applicazioni Con la termoadesiva Andate a Controllare La playlist Ok O a Leggi tutto Mentre All'occhio Come sta a Fa Blah 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 Vediamo Un po' E niente Faremo Tutti Sti Lavoretti Ragazzi Come Vanno Con La Scatolina Del tonno Del tonno Vi devo Far vedere pure Quell'altra Che ho fatto Ma ce l'ho Di là Pannelli A volte Hanno Vari oggetti E si possono Tagliare Ah Hanno Vari soggetti Scusa Ho letto male Si possono Tagliare Si è vero Come no Bisogna Vedere pure Che materiale So Perché Per esempio Di cotone Voglio Perché Le stoffe Natalizie L'ho Messe Tutte Nell'armadio Qui Non c'ho Niente Di Particolare Manco La Aspettate No L'ho Messe Tutti Niente Perché Quelli Nuovi Ragazzi L'ho Messe Nell'armadio Perché Qui Se Non Mi Prendono Polvere Perché In realtà Ragazzi I tessuti Li tengo In un armadio Devo essere Sincera Qui Dietro Tengo I tessuti Che ci Faccio Per voi I tutorial Ma i tessuti Quelli che Poi io ci Vendo Li tengo Nell'armadio Sto organizzando Il mio primo Mercatino Anche grazie A te Lisa Ah Sebastiana Vi devo Fare Anche Un Tutorial Volo Per i mercatini Ragazzi A Natale Ne venderete Tantissimi È un oggettino Che Al bacio E poi Quando lo vedrete Vi mazzate Da rete Io già lo so Ma lo vendete Perché io lo vendevo Tanto E continuano A chiedermelo Quindi Anna Maria Si ce l'ho Il cartamodello Era che mi sembrava Oramai passata L'estate Però ve lo voglio Fa sto tutorial Appena a 10 minuti Vi faccio il tutorial Della camicia Perchè tanto Questa qui Essendo morbida La può mettere Sia una persona Magra Che una persona Che ha il seno Poi siccome È larga Non ci sono cugni Né sul seno Né sul fianco Perchè è dritta Quindi va bene Come se fosse Una taglia unica L'unica cosa Poi vi spiegherò Come fare Il pezzo qui Perchè l'elastico Vedete Allora Si ok Per la camicia Io sono Come te Abbondante seno Allora I tuoi gattini Segnalibri Sono andati a ruba Eccoli qua Io me li so Tenuti qui Perchè li Amo Li amo Ah ma Ve volevo Fa il cane Lo volete Il segnalibro A forma di cane Grazie Antonella Franco Se volete Il segnalibro Con la faccetta Del cane Eh Allora Me lo segno Aspettate Che Perchè Molto Molto Simpatico Allora Segnalibro Cagnolino Ok Si ve lo faccio Perchè Magari Se li mettete Sul banco Ehm A parte Che questi qui Li potete Fa pure Come bombognere Eh Perchè Al collo Ragazze Ci potete Incollare Il sacchettino Aspettate Che io L'ho spillati Ecco Vedete Sono molto Molto carini Ma qui A parte Potete scrivere Il nome Io L'ho Fatti Pure Come regalo Alla Scuola Ai Compagni Di scuola Ecco Qui ci potete Anche Attaccare Al collo Il sacchettino Quindi Può essere Anche Un dono Sennò Gil Si offende Eh Gil È una paraventa Si offende Davvero Mica no Allora Rimettiamoli Perchè Questi Mi piacciono Tantissimo E io Me le ero Messi Proprio Qui Dopo Lo riattacco Ma sono Veramente Veramente Carini Eh Veramente E mo Vi voglio Fare Anche Vi voglio Fare Anche Il Cagnolino Si Allora Vediamo Accorto Accorto No Perché Stasettimana Ci abbiamo La topina Ci abbiamo Un sacco De cose Va bene Ragazzi Insomma Ci siamo Allora Troppo Carini No ma Infatti Sono Carini Poi Antonella Tu puoi Scrivere Il nome Collarica Matrice Per esempio Guardate Qui Ci ho messo La toppa Gli ho fermato La toppa Gli ho messo Il collarino A quest'altro Non gliel'ho messo Però insomma Con fiocchetto Rimane più carino Eh So Veramente Veramente Simpatici Allora Cucire Dopo l'estate Finalmente Si ritorna a cucire È vero Adesso è piacevole Ragazzi È piacevole Elisa Mi puoi dire Che tessuto Usare Per un portapranzo Ma io Per un portapranzo Poi A parte Bisogna vedere Il modello Se è rigido Oppure È tipo Sacchetto Comunque Orientati su Un tovagliato O un cotone Tranquilla Tranquilla Uno di questi due Li puoi fare Aspettiamo il tutorial Buona serata Ciao Anna Maria Valente Ciao Tesoro Il cane Brava Ok Anna Bellelli Niente Vi state salutando Ok E niente Ragazzi Io direi Che ci possiamo Anche salutare Lo gnomo in piedi Marito della gnoma Che hai fatto L'anno scorso Oddio Oddio Rifà proprio Quello Casomai Vi faccio Una sorpresa In quel caso Lì Non vi dico Niente Ma vi voglio Fare una sorpresa Allora Tutorial Sono più Ok Io sto creando Gli angioletti No Gli angioletti Sono Veramente Ne ho fatti Altri I primi Che ho fatto Erano carini Questo qui Quello pure Dell'altro anno Che si poteva Utilizzare Anche Come Puntale Carino Ma questo È veramente Cioè Mi piace Tantissimo Allora Dispiace Un cuscino A forma Di Mac Macchine Sarà Boh Gli ho fatto Il vestito Poi metto La foto Ok Sono piaciuti Un sacco Anche le Poschette A tre scomparti È vero È vero Ok Ah Forma di macchina Cuscina a forma di macchina Eh Bella idea È anti Gille Chissà Con chi Sta a bagliare No Non è Gille Allora Fantasia Stasera No Stasera Non c'è Ma l'angioletto È un puntale No Giuseppina L'altro anno Ho fatto L'angioletto Che poteva essere Un puntale Perché era Su un cono L'abbiamo lavorato Su un cono Quindi Si poteva Sia inserire Nella punta Che appoggiare Sul tavolo Comunque Si può pure usare Si mette Un laccetto Dietro Mettete dietro Le alette Un laccetto Lo legate Al puntale Nessuno Lo vieta Se uno Lo può utilizzare Come puntale Invece di appenderlo Non mette Il laccetto Dietro Ne cuce Uno qui E lo fissa E lo lega Quindi Nessuno Vieta Niente Anzi È molto Molto carino Allora Vedo che Insomma Le domande Non ci sono Allora Un porta Palmare Come posso Realizzarlo Per mio marito Serve per il lavoro Eh Dobbiamo farlo Un po' Doviamo fare Un cagnolino Chihuahua Ci proverò Ancora Stasera Non ci sono No Allora Stasera Non ci sono A me La tasca Fa impazzire Eh La tasca Guardate Ah Questa Sì Questa qui È molto Molto carina Ci ho messo Pure la macchina Da cucire Qua Ho Ho messo La macchina Da cucire Con fiocchetto Elisa Mio marito È universitario Della terza età E sta per laurearsi In pianoforte Jets Hai un suggerimento Per una bomboniera Carina Con le note Potresti fare qualcosa Con le note Vediamo un po' Allora Federica B Per quando ti serve Vediamo se si riesce a fare qualcosa Fammi sapere un attimo Gabriella Ciao Federica B Allora Complimenti Eh Infatti Carmela Cianci Un bacio Tesoro I primi Di febbraio Ah Sì Allora Facciamo Perfetto Te la faccio Te la faccio Me la studio un attimo E la facciamo Perché Allora Antonella È già un fermaporta A forma di bassotto Questo già l'ho fatto Va bene Ma il chihuahua Mi manca Io comunque Ho segnato Bassotto e chihuahua Vediamo un po' No Bassotto C'ho già il cartamodello È il chihuahua Che Non ce l'ho Ok Va bene Allora ragazzi In diretta Ci ritroviamo Martedì sera Domani Esce il tutorial Mo' può darsi che io Sono tutta entusiasta Poi Lo vedete E dite Ma che ci ho fatto Elisa Giuseppina Bombognate Per mia nipote Cresima Ok La mia Gea ti ringrazia Un bacione Allora Niente ragazzi Io spero Che il tutorial Di domani Vi piaccia Poi me lo saprete Dire Poi Giù Nei commenti Non qui Al tutorial Che esce domani Quindi non so Se esce domani mattina O nel pomeriggio Date sempre Un'occhiata Bombognera In ingegneria Navale Una statua Artina Perché ingegneria Navale E una statua Gli devi fare No sto scherzando Vediamo un po' De inventarsi qualcosa In ingegneria Navale Navale Vediamo un po' Di fare una base E poi Magari attaccarci qualcosa Insomma Per le varie Che ne so Dottore Insomma Vediamo di studiare Una cosa carina Allora Bellelli Ad ancora Buona serata A tutte Anche a te Elisa Teresa Grazie Allora ragazzi Io direi di Salutarci a questo punto Allora In diretta Lo ripeto Ancora una volta Ci ritroviamo Martedì 5 5 5 No Sì Oggi è 3 4 Sì 5 Quindi Martedì 5 Ci ritroviamo In diretta Alle 9 Mentre domani Uscirà il tutorial Ok Io vi do Un bacione Vi strizzo In un forte abbraccio E Vi auguro Un buon proseguimento Di serata Va bene Ciao ragazze Ciao a tutte Ciao a tutti Grazie.